Prima di far uscire le ragazze per l'ultima sfilata ai costumi intero, volevo fare un brevissimo ringraziamento agli sponsor ufficiali del concorso e poi dopo la sfilata delle ragazze farò parlare il vostro sito a qui dicembre. Allora, ringraziamo comunque Linea Sprint, che è il merchandise, insomma, lo sponsor ufficiale dei nostri costumi di miscaldane, il gruppo Pascal, che è un gruppo che si occupa di cosmetici che trattano comunque tutti i concorsi di miscaldane. Vi ringraziamo tantissimo perché sono state bravissime le nostre parrucchiere del salone, aspetta che adesso è il mio papino, Cinzia, aspetta che si chiamava io, Anko, no, non sono papina, alla fine mi ricordo il mio nome! Insomma, il nostro salone Cinzia, adesso mi ricordo il nome, mi sfugio un attimo, che sono state bravissime a pettinare tutte le nostre ragazze, le nostre truccatrici estetiche, quindi l'angolo dell'estetica di Silvana, sempre qui dicembre. Abbiamo preferito ovviamente far truccare e pettinare, mica quelli di Milano, i nostri truccatori, però anche i locali, mi sembra giusto dare spazio a loro. Allora, poi ringraziamo anche il fioraio, o la fioraio, che non mi hanno detto ancora come si chiama. Come si chiama il fioraio, presidente? Tondin, e anche il nostro fioraio Tondin, che ha fornito poi i fiori che vedrete dopo, che saranno consegnati alle ragazze che hanno partecipato a queste saluzioni di Spadaia. Io adesso farei entrare le ragazze che sono pronte, vero? Sì, per l'ultima sfilata, in costume intero, Adriano Vagliacicchi. E ecco a voi, a numero uno, Paganara Paschino, un applauso! Sì, per l'ultima sfilata, inentliche, per il tuo sorriso, di vita, la gioia, lacrime, di Spadaia. E ecco la seconda, ragazza, numero due, stagliendo, Valentino, un applauso! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi Deborah! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per si filare il costume, ed ecco voi la numero tre, sono voi! Giulia, un applauso, Valentina, mi ricordo che questa è lui per sho'amore Mentre la nostra Giulia si pensa che faccia questa linea per un orto Zegni, Jennifer. E ora facciamo sfilare l'ultima ragazza, numero 9, Giulia Cabarelli. Un applauso! Con tutte queste belle ragazze sul palco io vorrei far fare un piccolissimo intervento al sindaco di Ciembra, se vuole venire. Con noi un applauso al vostro sindaco! Ecco qua! Grazie! Vuole essere a tutti, io devo fare un ringraziamento, non solamente per l'invito, perché qua sono ospite a questa festa, ma soprattutto per l'impegno, permettetemi di fare un po' la campanilista, per l'impegno che Alessandro sa voi, mentre sempre è qualcosa che fa. Grazie! Grazie! Grazie!